Ernesto Puppo è stata ancora una volta una premiazione direi importante per il Prato Nevoso. Tanti riconoscimenti, tante volte sul podio, è stata una grande stagione. Sì, è andata in una stagione che è stata molto positiva perché abbiamo vinto tre trofei su cinque, grazie a specialmente nella categoria giovani e master, dove abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere e nel complesso è venuto il risultato finale della Coppa Liguria. Un altro anno abbiamo già dei progetti abbastanza ambiziosi perché ci siamo anche rinforzati sia come allenatori che come ragazzi che sono passati da altri gruppi perché vogliono cercare di vincere, cercano un gruppo che possa aiutarli e poi speriamo se organizziamo quattro gare, due master al 22 di febbraio, due gare nello stesso giorno e due regionali di qualificazione il 5 e 6 gennaio a Prato Nevoso di Gigante e una di Slalom. Un fior all'occhiello ha anche l'ospitalità della Coppa del Mondo di discesa liberi che oggi avete di fatto presentato in anteprima. Sì, a metà gennaio c'è questa manifestazione di tre Slalom in tre giorni feriali e poi giustamente noi gli diamo il sopporto dal 5 al 6 di fare un po' di allenamento sulle piste di gara partecipando alle nostre come hanno fatto tutti gli anni e ben contenti che siamo. Grazie.